Siete dietro il piano del passé, le gamine sono un po' più verso di me, perché sennò che non è ok, atto bene, respiro bene, in questa posizione semineosa, cioè solo respirando e poi prendiamo il suo modo, perché non si può lavorare. Tengo la posizione, stende le braccia, improvvisamente il posto comincia a pesare la fibula che è senza zero. Ok, se ne comandiamo la moda, uno, per questo non vuoi dire che abbiamo in posizione, tre, quattro, cinque, sei, sette, e otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, respira, però non spiego, non ce la fai, sei, sette, otto, posizione, Isola in piedi, braccia, semi, tese, dietro, vediamo, sulle cosce, 90 gradi, tengo, respiro, se non ci riesci, otto bene, respira, Mancà, respira, respira, spiro, respira, sfira,ore, Proviamo il trago. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei, sette, otto, appoggio. Ok, tengo il tempo, sollevando la citta, sollevo la tua mano, respiro, appoggio, respiro. Dispiro, diafragma, respiro, trasversa. Ok, sollevando le braccia, tenendo la citta. Allora, sempre le mani in quale posti, ok. Sletto la gamba sinistra, flesso e stenzione, fare questo lavoro. Allora, scelto, posto la sinistra sotto l'ombelico, spendo le alba sinistra, estra ruoto, sollevo. Ho sbagliato, scusate. Uno, sollevo in questo modo. Due, tre, quattro, cinque. L'ombelico è sempre chiesa, la schiena schiena, il movimento è praticamente inteso. Quindi, ginocchio al petto e stendo la gamba. Ginocchio al petto e stendo la gamba. Fletto e stendo. Guarda il petto, guarda qui. Siete, quattro, tre, due, uno, ancora. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora. Siete, quattro, tre, due, uno. Apposso la gamba, che sta bene, che stiamo andando, e andiamo dall'altra parte. Siete, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Ricordatevi, quando si stendete la gamba, per il mio momento c'è da essere un'azione. Cinque, sei, sette, otto. Ancora, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e stop. Ancora, otto, passiamo ancora, continuiamo con questa gamba, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e appoggio. Facciamo qualche momento, otto le mani sotto la spinta, in maniera tale da riuscire a fare sia questo, che questo. Sei, quindi, uno, due, si sta, continuiamo perché se no non ce la fatte. guarda bene, allora scelta e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subiamo e 1, 2, subiamo i piedi, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sto a 8, lentamente, inspiro, ancora, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sto, appoggio i piedi, e ci scegliamo, ci scegliamo, ci scegliamo e ci scegliamo agli altri esercizi. e tu lascia di racco Сейчас 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 13, 15, 22, Saint Cos'è che non fa vero? Ah, sicuro? Ah, guarda, non ti giusto, sentitelo, sentitelo Ok, guarda a me, sollevo Ok, posso guardare le mani Stico avanti e cerco di essere legata nella destra Tengo la posizione E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Per questo tipo, cerchiamo il peniere Cerchiamo il peniere, eh? Questo problema è un ciccidino e con la crescita Un ciccidino Dove, dover, tre, quattro, cinque, sei, sette, quattro, tre, due, tre, cinque, sei, sette, quattro, tre, due, tre. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 11, 12, Allora, avanti, saluto, così, piove, ancora di me, sono 90 gradi qui dentro, per colpa vostra, io, adesso, se le giornate sono così, io, sinceramente, va bene tutto, ma 90 gradi, se credo, non va bene, eh, allora, 1, ti hanno fatto è subito, già potente, spingo, 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 alto, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lentamente e 1, 2, 3, 4, piano, 5, 6, 7, 8, 4, anche così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e stop, allungo, Porto indietro, rigolante, in arco, scendo, allungo, rilasso, prendiamo le spalle dentro, 1, 2, 3, 4, 5, passare e castmetterissimo arapp sprechi Avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allungo, apri, allungo e torno. Giro avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, per finire buona giornata. Grazie.